Complimenti innanzitutto alla produzione, a Gianni Petrizzi in particolare che ha curato la regia, ha curato un po' tutti i particolari, ma con impegno, passione e competenza ha messo in campo un prodotto di altissimo valore, di altissima qualità. Io devo dire che ho avuto un riscontro diretto perché la comunità nostra dei campani a New York mi ha contattato, io ne abbiamo parlato, loro hanno accolto Gianni Petrizzi lì e hanno sostenuto, hanno tifato per noi e hanno soprattutto avuto parole di grande apprezzamento. E quindi io faccio i complimenti, i complimenti perché quando si fanno delle cose nel nostro territorio e quando si fanno soprattutto le cose da persone che amano il proprio territorio, per noi non può essere che un motivo di vanto e di orgoglio. Quindi noi siamo veramente orgogliosi del lavoro che Gianni Petrizzi, dei suoi collaboratori, di tutta la sua squadra ha messo in campo e sono contento che stiano arrivando anche dei bei riconoscimenti. Perché lui sta avendo tanti riconoscimenti e mi auguro che possa essere l'occasione per poter crescere sempre di più e rappresentare un bel punto di riferimento per quanto riguarda la cinematografia nel nostro territorio. Vieni a dire, ottima la location, ottimo lo scrittore di Canna Longa qui. Canna Longa è stato un set straordinario perché Canna Longa, noi sappiamo benissimo che rappresenta un momento di eccellenza territoriale. Canna Longa ancora si portano avanti quelle tradizioni vere, si portano avanti quei momenti anche culturali oltre che legati alla storia del nostro territorio. E quindi la scelta di Canna Longa è stata una scelta assolutamente pertinente ed è stata una scelta che a mio avviso è stata anche importante al fine dell'ottenimento di quei riconoscimenti che sta avendo il film. Quindi è chiaro che una gran parte di merito va ai luoghi meravigliosi dove appunto il film è stato realizzato, quindi alla comunità di Canna Longa e a chi ha scritto chiaramente il film. Musica Musica Musica